Le possibilità per quanto riguarda il raggiungimento di una certa silhouette, quindi una morfologia gradevole e consona a quelle che sono le richieste della donna, possono essere divise in due grosse categorie, sia di tipo medico che di tipo chirurgico. Per quanto riguarda la mia pratica clinica, prevalentemente oggi le afferenze maggiori o le richieste maggiori sono quelle legate al trattamento delle adiposità localizzate, dei cuscinetti adiposi, che fino a qualche anno fa erano di esclusivo appannaggio e sesso femminile. In realtà oggi possiamo dire che anche una buona quota del 20-30% interessa anche il sesso maschile. Nello specifico mi considero un po' pioniere, tra i primi in Italia, ad essere utilizzatore di una delle metodiche più interessanti che è venuta fuori negli ultimi anni, che è la liposcultura laser assistita o attraverso il laser, che non va intesa assolutamente come un trattamento di dimagrimento, perché quello è di competenza assolutamente nutrizionale dietologica, ma è proprio il cosiddetto body sculpturing, il rimodellamento corporeo che serve a ridurre le adiposità localizzate eccessive e dare quindi una buona morfologia di radevolezza alla donna. La novità in tal senso, intanto spieghiamo e cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Si tratta dell'utilizzo di un laser a doppia lunghezza d'onda, che viene definito multiplex, che ha la possibilità da un lato di sciogliere il cuscinetto adiposo o la adiposità localizzata, all'altro lato di determinare per un effetto termico, quindi di riscaldamento dell'acute, un effetto di intrazione, di rimodellamento del contenente rispetto al contenuto. Quindi può essere una metodica che può essere effettuata anche in quelle zone che sono caratterizzate sia da adiposità localizzata che da rilasciamento. In funzione di questo tipo di filosofia ho avuto nel tempo l'intuizione di portare la metodica verso zone più nobili rispetto al corpo e in particolare nel viso. Lì ho lavorato moltissimo nelle adiposità del mento, del collo, dove c'è il rilasciamento cutaneo associato alla piccola adiposità. Devo dire che i risultati sono veramente interessanti perché si determina un effetto di trazione, di tightening, tale da determinare quasi un lifting non chirurgico o non da facelift, da chirurgia estremamente invasiva. Anche perché oggi la tendenza e la richiesta prevalentemente è proprio quella, cioè di ottenere risultati e di avere una convalescenza, un cosiddetto downtime veramente ridotto al minimo. Pensiamo, visto che ci stiamo parlando quindi di diviso, che l'associazione e spesso avere un armamentario estremamente vasto, vario e versatile in un'attività lavorativa come la nostra, è estremamente importante perché l'associazione di una metodica come il laser lift, come l'ho chiamato io, quindi di riduzione delle adiposità e di ritonificazione alla pelle associato successivamente alla rivolumizzazione attraverso la varietà di filler che noi abbiamo e ancora di più attraverso sostanze come la tossina botulinica, ci può dare un effetto completo su quello che può essere un ringiovanimento del viso. Quindi da un lato il laser che viene a determinare questo scioglimento e questo effetto tightening, dall'altro lato la rivolumizzazione, quindi è relativa alla perdita dei volumi e dall'altro ancora l'utilizzo della tossina botulinica per l'azione in particolare sulle rughe mimiche. Una situazione di questo tipo porta a un ringiovanimento globale senza, come dire, convalescenze molto lunghe senza esiti cicatriziali che sono quelli tipici della chirurgia plastico-estetica tradizionale, senza niente e nulla togliere alla chirurgia.